Torna anche quest'anno Animali in Fiera. È la sesta edizione, prossimo weekend, sabato 10 e domenica 11, dalle 9 alle 19. Nove fiere, un unico ingresso. In realtà sono veramente tanti i padiglioni che siamo riusciti a realizzare. Entrando troviamo il settore reptilius, fra le novità la presenza di un dinosauro raptor in misura 1 a 1 e una nuova mostra, la mostra di fossili. Poi l'aeromagnola è stato allestito grazie a volontari, professionisti, veterinari che sono addetti alla salvaguardia delle razze autoctone, sia di avicoli, sia di cunicoli e anche di animali da stalla. Ancora presenti Psittacus, come tutti gli anni, con i loro oltre mille papagallini provenienti da tutto il mondo, quindi razze esotiche molto colorate e particolari, che sono anche lì raccolte per essere mantenute. Poi negli ultimi padiglioni, come ormai tradizione, Romagna Fiera e ospita Fiav, Amac e Cuni, e quindi rispettivamente Colombi e Conigli. Grandi novità anche per il Salone del Cavallo. Dopo il successo di anno scorso, riproponiamo appunto proprio un ring per i cavalli, dove si svolgeranno per le due giornate delle esibizioni, delle mostre morfologiche, una gara col Gran Premio Ginkana. Per i bambini sarà possibile salire sui cavalli, quindi il battesimo della sella. Con la WISP ci saranno appunto anche dei percorsi didattici per l'avvicinamento agli animali. Momenti di divertimento, Wild Angels con i Bali Country per completare questo aspetto far west, insomma. Grazie.